Una stampante 3d può essere utile per la nostra bicicletta? Assolutamente sì, come vedete qui ci sono degli oggetti che ho creato con la stampante 3d, un po' sono stati disegnati da me e un po' li ho trovati in rete. Ci sono degli oggetti che possono essere molto utili per fare manutenzione oppure sostituire dei ricambi e semplicemente anche degli accessori extra per la nostra passione. Con la mia stampante 3d sono riuscito a stampare degli articoli molto robusti perché sono fatti con il filamento in carbonio quindi tutto quello che vedete sono stampati con una stampante dedicata per il carbonio. Ecco qua ragazzi la stampante che utilizzo per fare i miei pezzi in carbonio si chiama Creality modello K1C. Per questa stampante è in grado di stampare filamenti di qualsiasi tipo in più anche quello in carbonio infatti come vedete qui abbiamo il nostro bel filamento in carbonio. Cosa serve questo? Questo serve per tenere lontano l'umidità dal nostro filamento che si può programmare da questo display per poi portare il nostro filamento all'interno della nostra stampante. Questa stampante è eccezionale velocissima la prima volta che l'ho provato ho preso paura perché tremava il tavolo è velocissimo impressionante. Poi ha questo display touch che si può vedere tutte le funzioni del nostro della nostra stampante. Qui possiamo vedere tutti i file che ho caricato dal mio computer via wifi senza fili quindi questa bellissima stampante lavora via wifi non ci sono cavi in giro collegato col mio computer ma tornando sui pezzi che ho realizzato vi faccio vedere cosa puoi fare con questa stampante. Ad esempio questo è una puleggia per diciamo pulire la nostra catena della bicicletta. Questo ad esempio cosa sarà? E' un porta abiti come vedete qui ho fissato sul muro questa staffa in carbonio dove io posso mettere le mie zacche oppure anche il casco. Eccoci qua così abbiamo tutto in ordine perché lo spazio non è mai abbastanza. Potete vedere la qualità di stampa di questo stampante è liscia la superficie abbiamo un prodotto già resistente che per la prototipazione è perfetta ma anche per l'utilizzo hobbistico. Premendo forte potete vedere che non flette e all'interno è fatto a nido d'ape non è pieno perché si può anche riempire per ottenere un oggetto più resistente. Ecco questo ad esempio è un oggetto che ho realizzato da me come disegno e come forma sono delle spessore delle anelli di spessore dello seresterzo quindi qui possiamo spessorare l'attacco manubrio per abbassare appunto o alzare il nostro attacco. Ci sono diversi spessori questo ad esempio è da un centimetro e questo è da un centimetro e mezzo. Gli ho fatto questo scavo per alleggerire il prodotto perché adesso vi faccio vedere quanto risparmiamo di peso rispetto a uno spessore standard sia in carbonio che in alluminio. Eccoci qua in officina adesso vi faccio vedere con la bilancia digitale le differenze di peso tra quello stampato in 3d in alluminio e in carbonio con la stessa altezza quindi da un centimetro e mezzo. Pesiamo quello più pesante sicuramente in alluminio vediamo siamo sui 15 grammi proviamo quello in carbonio come vedete è vero carbonio non è finto mettiamo sopra e siamo sui 8 grammi bene ora vi farò vedere quello stampato in 3d in carbonio col mio disegno alleggerito siamo sui 3 grammi abbiamo risparmiato tantissimo con un piccolo oggetto che sta bene anche sulla nostra bici adesso vi faccio vedere il montaggio sulla mia bicicletta eccolo qua ho già preparata e li mettiamo anche il mio tappo personalizzato sopra così per farvi vedere come sta figo no poi ci sono tantissime altre idee che mi sono venute fuori dopo il video però intanto vi faccio vedere cosa si può creare ecco un altro oggetto appena stampato un porta borraccia in carbonio leggerissimo resistentissimo quindi si può utilizzare tranquillamente sulla nostra bicicletta. Altra cosa fighissima di questa stampante 3d ha una videocamera se vedete qui che riprende con dei fotogrammi la stampa dei nostri oggetti in modo da vedere come si crea davanti alla stampante abbiamo il vetro quindi insonorizza parecchio e sopra abbiamo un coperchio in plastica che si può rimuovere per andare a pulire. L'utilizzo di questa stampante è facilissima cioè il software è molto semplice alla portata di tutti chiaramente è più difficile programmare un pezzo al CAD che utilizzare lo stampante ma esistono tantissimi siti dove si possono scaricare i file già fatti di vari accessori ad esempio questo porta borraccia l'ho scaricato da un sito e magari metterò il link nella descrizione dove potete trovare questi oggetti da stampare gratis con la vostra stampante. In più metterò anche il link dove trovare questa fantastica stampante della Creality modello K1C. Vi faccio vedere quanto è semplice utilizzare il suo software ad esempio carico il porta borraccia ed eccolo qua pronto per essere stampato quindi qua abbiamo tutti i settaggi ma diciamo che puoi utilizzare anche quelli standard dopo ci sono anche quelli avanzati poi basta premere qui print e via wifi si trasferisce alla stampante. Tornando in officina ho creato un altro oggetto molto utile che mi serve abbastanza spesso serve per raddrizzare il disco freno se ha una piega si infila così e si fa forza sul disco per centrare il nostro disco che non è più allineato. Figata no? Tornando sugli altri pezzi costruiti questo è una protezione per la pedivella quindi si monta sulla cima della pedivella per proteggere appunto contro gli urti a terra o le rocce si mette tra il pedale e la pedivella. Altra cosa questo è un attacco per fissare la nostra bici al muro ad esempio ci sono di varie dimensioni dalla bicicletta da corsa fino alla mountain bike con la gomma più larga ecco qua così vi tiene in equilibrio la vostra bicicletta in officina oppure in garage questo invece è un altro oggetto che ho realizzato da me sono adesso vi faccio vedere cosa ok eccolo qua ragazzi cosa serve venite con me torniamo in officina con questo pezzo questo va qui e voilà una protezione per la nostra forcella che adesso si può anche abbassare per evitare che si graffi la forcella poi si può fissare anche con delle fascette per tenerla fissa io l'ho misurato con il calibro vedete è precisissimo entra a scatto bellissimo tornando su questo accessorio per la pulizia della catena possiamo vedere la precisione di stampa che riesce a realizzare un filetto senza problemi sono riuscito a stampare un prototipo però non posso farvelo vedere questo filetto come vedete molto grande sono riuscito a stampare con quella creality un filetto da una e mezzo che quattro cinque anni fa era impensabile quindi la precisione e soprattutto la velocità di esecuzione del pezzo è incredibile vi faccio vedere a cosa serve questo accessorio prendiamo la nostra catena così e la mettiamo all'interno del nostro perno così spingiamo il perno all'interno e voilà montato possiamo pulire la nostra trasmissione facilmente senza problemi sia avanti che indietro e adesso però vi faccio vedere la velocità di questa stampante come vi ripeto io ho preso paura all'inizio tremava tutto all'ufficio perché occorre un tavolo molto stabile ok ho acceso questo che serve appunto per tenere il filamento senza umidità e selezioniamo sulla stampante l'oggetto da stampare facciamo questo stampa ed è partito cioè ragazzi guardate la velocità di stampa non sto accelerando mi trema il tavolo incredibile c'è pazzesco la velocità di questa stampante ve lo faccio vedere nel dettaglio se guarda che roba paura sembra un reattore mi sono venute tantissime idee dopo il video che potevo realizzare farvi vedere ma non è finita qui farò altri video con la stampante 3d perché secondo me sia per prototipazione e pezzi finali che possiamo montare sulla nostra bicicletta ci sono delle cose che mi sono venute in mente per me molto utili e utili anche per voi da utilizzare sulla vostra bici nella descrizione del video metterò il link dove potete trovare questi oggetti che ho stampato gratuitamente e il link di questa fantastica stampante della creati modello k 1 c c sta per carbon ciao e al prossimo video